Quando era il tempo di guerra, filavo la lana, filavo la lana con una corletta si chiamava, una macchinetta fatta di legno, l'aveva fatta mio marito, con un pedale, con i piedi facevo andare il pedale e con le mani facevo la lana, filavo e veniva il filo. Ma questa lana da dove veniva? Dal materasso. Avevo tolto la lana del materasso perché non c'era la lana, noi non avevamo pecore. E allora la toglievo dai materassi e la filavo e facevo anche i golfini e poi li facevo anche per gli altri, questi golfini. Tutte le sere, la mattina mi alzavo alle 5 e andavo in stala perché se no era freddo, con questa corletta e con questo coso e facevo questo filo. Quando ne avevo fatto abbastanza lo lavoravo con i feri e facevo dei golfini, belli, erano belli.